Un passo verso il futuro con la spinta dei rifiuti e tra la multi utility che serve a decine e decine di comuni del Veneto ha appena immesso in rete il primissimo metro cubo di metano prodotto direttamente dal biogas ottenuto dal trattamento del rifiuto organico. È la conclusione di un progetto energetico, ecologico, ambizioso, etico e rivolto al futuro. Nell'impianto di Bassano del Grappa con un investimento di 6 milioni di euro è stato infatti messo in moto negli ultimi due anni un impianto innovativo che pulifica il biogas ottenuto dalla lavorazione del rifiuto umido proveniente dalla raccolta differenziata che oltre ad essere bruciato per ottenere energie elettriche e calore può essere trasformato anche in biometano. Così facendo Etra non solo può cominciare ad autoalimentare i propri impianti di lavorazione dei rifiuti in un processo virtuoso di economia circolare ma in futuro potrà anche installare i propri distributori per alimentare gli stessi automezzi della raccolta dei rifiuti. L'aspirazione di Etra è quella di riuscire a diventare autosufficiente dal punto di vista energetico quindi biometano, biogas ma anche fotovoltaico, tanto fotovoltaico. È l'unica maniera che abbiamo per tenere sotto controllo l'aumento dell'energia e quindi l'aumento delle bollette. Quindi riuscire a piazzare su tutti quanti gli spazi che noi abbiamo sono moltissimi perché penso che siamo intorno ai 45 mila metri quadri di tetti dove poter montare il fotovoltaico per poter produrci l'energia elettrica che consumiamo. Tenere presente che i nostri impianti sono impianti fortemente energivori quindi abbiamo un costo pauroso di bollette di energia elettrica quindi l'autoproduzione è l'unico sistema. È sostenibile da tutti i punti di vista sia economico che ambientale chiaramente qui chiudiamo anche il circolo ecologico che parte da rifiuti organici che producono biogas, biometano e a questo punto l'economia circolare in questo modo è completata. Depuriamo il biogas che è già prodotto dall'attuale impianto in maniera tale da ottenere un biometano purissimo che può essere messo in rete con specifiche estremamente qualitative che può essere utilizzato per l'autotrazione. Un processo che viaggia verso l'autosufficienza energetica dell'azienda e che per l'occasione ha meritato una grande presentazione in una sala di Palazzo Ferrofini, la sede del Consiglio regionale Etra guarda ancora più avanti. Il sogno è di aprire un impianto analogo nei prossimi anni anche nel proprio impianto di Campo San Piero. C'è una sorta di filiera assolutamente positiva da un punto di vista ambientale ed energie rinnovabili Etra fa con questo impianto davvero un'iniziativa straordinariamente importante per il nostro territorio. Un plauso a Etra e ai comuni che hanno voluto questo tipo di impianto. Davvero un'iniziativa importante per tutti noi. Etra è un'azienda del territorio, un'azienda di servizi che eroga servizi a 70 comuni del territorio. Questo contribuirà sicuramente ad aumentare ancora di più la stima, l'autostima dell'azienda stessa ma la stima che ha anche il territorio e l'utenza nei confronti dell'azienda Etra.